E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete letto dal titolo andremo a recensire il pandemia perfezionata Fucile a impulsi ripreso dall'sn1 e inserito con la quest ora 0 all'interno del gioco Prima di iniziare vi dico subito che se non sapete come ottenere l'arma trovate la guida completa sul canale Ma adesso andiamo subito a guardarla un po' più nel dettaglio L'arma di per sé è molto simile al pandemia primordiale di Destiny 1 ma come ci fa a intuire il nome è stata perfezionata E al suo perk originale ovvero quello che ci permetteva di far spawnare dei droni SIVA infliggiando colpi precisi in rapida successione e che facevano 10 di danno ciascuno E' stato aggiunto un secondo perk Questo infatti ci permetterà di aumentare il danno in base ai droni che si appiccicheranno ai nemici Ma andiamo subito a vedere l'applicazione di questo perk per quanto riguarda sia il PvP che il PvE Partendo dal PvE ovvero l'utilizzo migliore che possiamo fare di quest'arma Questo perk è veramente molto molto buono contro i boss Questo perché ovviamente grazie all'aiuto di una pozza con una fazione o di una barriera bassa tra i titani Più spareremo più il danno aumenterà in maniera esponenziale All'inizio non faremo tanto danno ma soprattutto se saremo in tanti a sparare con il pandemia Tutti i droni generati si appiccicheranno al boss aumentando il danno sempre di più A questo però come ho già detto influisce anche il numero di persone che usano l'arma Infatti il perk è trasversale Se per esempio un nostro compagno ucciderà un nemico e i droni generati si appiccicheranno ad un altro Aumenterà anche il nostro danno Ovviamente se siamo ad una distanza minima Di conseguenza il pandemia primordiale diventa una delle 9 armi più usate per quanto riguarda il DPS Anche se con un'applicazione un po' particolare Per quanto riguarda invece il pvp l'arma fa un danno di 25 alla testa che può aumentare fino a 44 con il perk attivo E un danno al corpo di 16 che aumenta fino a 25 In generale l'arma è molto buona come impulsi rientranno completamente nel meta Il perk purtroppo però si attiva molto raramente ma quando si attiva vi assicuro che dà un boost non indifferente E infatti l'arma ha un rinculo veramente inesistente Una velocità di ricarica media Un impatto medio Una gittata veramente molto alta Un caricatore di 36 colpi E una cadenza di 450 colpi al minuto Che come già detto la fa rientrare perfettamente nel meta Quindi ragazzi questa era la recensione del pandemia perfezionata Io ancora una volta vi ricordo che se non sapete come ottenere l'arma trovate la guida comprata sul canale Detto questo vi direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo Giusto a tutti quelli che non conoscete che c'è altra Seguiteci anche su Instagram, Facebook e commenti in video Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fattacissimo sito E detto questo ci vediamo alla prossima Ciao